Aspetta, recupero subito la versione test di mia app di prova. Benvenuto al precettore della chitarra fret, che cosa vi piacerebbe fare oggi? Quale corda vi piacerebbe sapere a suonore? E smorzata, A tasto 3, D tasto 2, G aperta, B tasto 1, E aperta. Cosa ora vi piacerebbe fare?